Frontex ha ufficialmente detto che è opportuno aprire un ufficio in Sicilia. Resta da stabilire dove questo ufficio dovrà insediarsi. Con il primo mio atto parlamentare, una interrogazione alla Commissione presentata nel luglio del 2014, io ho chiesto esattamente questo, che la Sicilia potesse avere un ufficio operativo che coordinasse le operazioni nel Mediterraneo, molto più da vicino rispetto a Varsavia, dove in questo momento ha sede Frontex e Catania è la città che candidiamo, lo abbiamo fatto anche con il sindaco Enzo Bianco, ci sono addirittura i locali che possiamo mettere a disposizione perché Catania oggi è il punto di approdo di migliaia e migliaia di migranti e Catania ha dato esempio di solidarietà e di accoglienza anche prima che intervenisse l'Europa. Quindi Catania secondo me è la città pronta ad accogliere Frontex, Frontex siciliano deve stare a Catania.